Speriamo bene insomma che finisca bene tutto questo. Non fanno che ripetere queste parole a Maerne Martellago da quando si è saputo che l'imprenditore sessantenne Angelo Zen è l'unico disperso italiano a causa del violento terremoto che ha colpito la Turchia e dove Zen si trovava per lavoro. La famiglia che non lo sente da domenica si è chiusa nel silenzio. Un via vai continuo da ore qui in via Mulino dove c'è l'abitazione di Angelo Zen motivo per cui la moglie Patrizia che ha chiesto più volte di essere lasciata stare ha deciso di far posizionare queste transenne. La comunità è in apprensione, lo stesso sindaco non lascia il telefono nella speranza di ricevere notizie dalla Turchia nonostante le difficoltà logistiche come ha ribadito più volte il ministro degli esteri italiani che è in costante contatto con la Farnesina. È l'unico italiano disperso in Turchia ma penso che sia una tragedia mondiale quindi dobbiamo essere tutti uniti e avere la speranza che Angelo torni a casa prima possibile dalla propria famiglia per riabbracciarla. Lei ha già pensato a un'iniziativa? Sì come comune e come parrocchia di Maerne e grazie anche a Don Siro domani sera alle 18.30 sarà organizzata una messa, una preghiera di speranza appunto per Angelo. Zen si trovava al Sara Hotel completamente distrutto dal sisma situato nella città turca dove si è registrato l'epicentro. Originario del Varesotto ha vissuto a Romano Dezzelino e da alcuni anni si è trasferito a Maerne dove vive con la moglie Patrizia.